Cari amici lettori. È stato annunciata la vincitrice della 38esima edizione del premio per la donna scrittrice, un prestigioso riconoscimento letterario assegnato annualmente. Il regolamento prevede che tra tutte le opere edite di narrativa, scritte in via esclusiva solo da scrittrici, la giuria tecnica composta da scrittori, docenti universitari e critici letterari, sceglie tre opere. Nel corso della cerimonia di premiazione, oltre al premio principale, vengono consegnati il premio Opera Prima e il premio speciale della giuria. Il premio per la donna scrittrice fu istituito nel 1985, dal giornalista Pier Antonio Zannoni per incoraggiare e valorizzare l'attività femminile nel campo della narrativa. La vincitrice dell'anno 2023, con 11 voti e Simona Baldelli autrice del libro intitolato Il pozzo delle bambole, pubblicato dalla casa editrice Sellerio. La classifica finale vede al secondo posto con 8 voti, Michela Monferrini, autrice del libro Dalla parte di Alba, pubblicato dalla casa editrice Ponte alle Grazie. Al terzo posto con 6 voti, Valeria Parrella, autore del libro La fortuna, pubblicato dalla casa editrice Feltrinelli e libro vincitore del premio Mondello 2023 Opera Italiana. E libro vincitore del premio Costa Smeralda Narrativa 2023. Il premio Opera Prima è andato a Greta Pavan, per il libro Quasi niente sbagliato, pubblicato dalla casa editrice Bollati Boringhieri mentre il premio speciale della giuria è stato attribuito a Rosella Postorino per il libro Mi limitavo ad amare te, pubblicato dalla casa editrice Feltrinelli. Dopo avervi fornito una panoramica delle opere finaliste e dei vincitori del premio per la donna scrittrice, sono curiosa di conoscere la vostra opinione. Di seguito la trama dei libri. Il pozzo delle bambole. Nina viene abbandonata in un orfanotrofio nell'immediato dopo guerra. Le suore fanno la cresta sul vitto e le elemosine, il confine fra disciplina e oppressione è molto sottile e le punizioni corporali e psicologiche sono parte integrante del sistema di educazione. Quando Nina compie sette anni, arriva Lucia, che ha la sua età e non possiede la scorza necessaria per salvarsi dall'insensata cattiveria delle monache. Nina si sente in dovere di difenderla. Insieme all'amicizia, scopre la differenza fra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, mentre cresce in lei il senso di esclusione. Oltre le mura dell'istituto c'è un mondo al quale loro non hanno accesso e dove accadono fatti clamorosi. La nascita della televisione, il discorso rivoluzionario di un reverendo nero, l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, dighe che straripano e trascinano a valle migliaia di corpi, la morte del Papa Buono. Quando a 18 anni Nina esce dall'orfanotrofio trova davanti a sé un continente inesplorato. La sua vita sembra iniziare da capo, incontra nuove amiche, con loro partecipa a manifestazioni e scioperi e alla storica occupazione del grande tabacchificio di Lanciano, nel maggio del 1968, durata per ben 40 giorni. Le vicende private e sentimentali delle ragazze si mescolano a quelle pubbliche, tutto attorno l'Italia cambia, pare lasciarsi indietro l'oscurità del passato, scopre i consumi e le reclama, la moda e le prime utilitarie, mentre le radio a transistor raccontano una trasformazione dei costumi a tempo di canzoni. La colonna sonora di ciò che poteva essere e non è stato. Il Pozzo delle Bambole racchiude in sé molti romanzi, una storia di crescita e di formazione, sulla scoperta del mondo palmo a palmo, un'avventura di collegio, di istituto, di camerate e cucine, spazi in cui crescere e trasformarsi, un affresco storico sul dopoguerra che è anche racconto di fabbrica e lotte e soprattutto un romanzo di donne che diventano consapevoli, commettono errori, avanzano e retrocedono in una lotta lunga e difficile che Simona Baldelli descrive con ritmo, verosimiglianza. Attenzione e sensibilità Libro dalla parte di Alba Un'anziana scrittrice riceve nel suo appartamento parigino una studentessa di lettere e nel dialogo con lei riaccende le stanze dell'infanzia, le avventure della giovinezza, le pagine della maturità. Figlia di un diplomatico cubano e di un'ammirata donna della borghesia romana, Alba de Cespedes ha trascorso una vita in bilico tra continenti e rivoluzioni, all'inseguimento dei suoi genitori, alla ricerca dei suoi personaggi, alla conquista di una stanza tutta per sé per dedicarsi a ciò a cui si sentiva destinata fin da bambina, scrivere, scrivere, scrivere. Carica di storia Il nonno, poeta e combattente, è stato il primo presidente in armi di Cuba, ha attraversato il Novecento in prima persona, prestando la voce alla resistenza e il cuore a uomini che non potevano capirla fino in fondo. Intrecciati a zie e maggiordomi, amanti e conoscenti, amici e cartomanti, fanno la loro comparsa tra le righe Natalia Ginzburg e Simone de Beauvoir, Thomas Mann e Fidel Castro, Benedetto Croce e Italo Calvino, ma soprattutto le ombre letterarie dei suoi personaggi femminili. Alba de Cespedes diventa qui a sua volta protagonista di un romanzo che è anche una riflessione sul senso della scrittura come eredità di una vita. Libro La fortuna Il prodigio viene dalla terra, e scuote aria e acqua. Dal cielo piovono pietre incandescenti e cenere, il mare è denso e la costa sembra viva, ogni mappa disegnata è stravolta, i punti di riferimento smarriti. Lucio ha solo 17 anni e ha seguito l'ammiraglia di Plinio il Vecchio nel giorno dell'eruzione del Vesuvio, ma non può sospettare che il monte che conosce da sempre sia un vulcano. Per quel prodigio mancano le parole, non esiste memoria né storia a rassicurare. Nascosta dalla coltre rovente c'è Pompei, la città che ha visto nascere Lucio e i suoi sogni, dove ancora vivono sua madre, la Balia, gli amici d'infanzia, dove ha imparato tutto ciò che gli serve, ad esso, per far parte della flotta imperiale a dispetto del suo occhio cieco, anzi, proprio grazie a quello, che gli permette di vedere più degli altri, perché un limite è un limite solo se uno lo sente come un limite, se no non è niente. E mentre Lucio tiene in mano, per quanto la fortuna può concedere, il filo del suo destino, ecco che Pompei torna a lui presente e più che mai viva, nel momento in cui sembra persa per sempre, attraverso i giochi con le tessere dei mosaici, i pomeriggi trascorsi nei giardini o nelle palestre, le terme, il mercato, i tuffi in mare e le gite in campagna, le scorribande alla foce del fiume. La sua intera giovinezza li corre incontro irrimediabilmente perduta, eppure, noi lo sappiamo, in qualche modo destinata a sopravvivere. Insieme a Lucio, una folla di personaggi, mercanti, banchieri, matrone, imperatori, schiavi, prostitute e divinità, si muove tra le pagine di un romanzo sorprendentemente attuale, in cui niente è già visto, piuttosto ciò che conoscevamo del mondo classico ci appare in un aspetto nuovo, moderno e intimo. Libro quasi niente sbagliato. Brianza, terra dai confini incerti, paesaggio di asfalto e capannoni, provincia ricchissima, dove la religiosa devozione al lavoro sembra essere l'unico parametro riconosciuto per la definizione di rapporti e identità. Ma per Margherita, nata nel 1990. In una delle tante famiglie venete emigrate in Lombardia nel dopoguerra, il benessere è una chimera da contemplare da lontano. Sfiancata dal susseguirsi di lavori senza prospettiva e a cui sembra destinata solo in quanto donna, svuotata dalla minaccia costante della precarietà e svilita da un'umanità ambigua, fatta di personaggi in cui albergano a un tempo colpa e innocenza, per Margherita rimane solo il sogno della fuga. Coltiva l'ossessione di Milano, attraente come una terra promessa, e di un lavoro come giornalista, forse unica possibilità rimasta per provare a fare sentire la propria voce. È sola alternativa a quella violenza che, goccia dopo goccia, quasi niente, rischia di trasformarla in tutto ciò che ha sempre rifiutato. Con quasi niente sbagliato Greta Pavane ha scritto un romanzo di formazione, un autentico spaccato generazionale, una storia sull'appartenenza e sull'affermazione di sé che prova a rispondere a una domanda esistenziale, se il male sia ciò che riceviamo o quello che ci portiamo dentro. Libro mi limitavo ad amare te. Omar ha dieci anni e passa le giornate alla finestra sperando che sua madre torni, da troppi giorni non viene, e lui non sa più nemmeno se è viva. Suo fratello gli strofina il naso sulla guancia per fargli il solletico, ma non riesce a consolarlo. Senza la madre il mondo svapora. Solo Nadalo calma, tenendolo per mano, soltanto lei, con i suoi occhi celesti, è per Omar un desiderio. A undici anni, sulla fronte è una vena che pulsa se qualcuno la fa arrabbiare, e un fratello, Ivo, grande abbastanza da essere arruolato. Nada e Omar sono bambini nella primavera del 1992, a Sarajevo. Per allontanarli dalla guerra, una mattina di luglio un pullman li porta via contro la loro volontà. Se la madre di Omar è ancora viva, come farà a ritrovarlo? E se Ivo morisse combattendo? In viaggio per l'Italia, lungo strade ridotte in macerie, Nada conosce Danilo, che ha mani calde e una famiglia, al contrario di lei, e che un giorno le fa una promessa. Nessuna infanzia è spensierata, ciascuno di noi porta con sé le sue ferite, ma anche quando ogni certezza sembra venire meno, possiamo trovare un punto fermo attorno al quale far girare tutto il resto. Mi limitavo ad amare te entra nelle fibre del lettore colpendo quel punto come una freccia. Ispirato a una storia vera, è un romanzo di ampio respiro, di formazione, di guerra e d'amore, che si colloca a pieno titolo nella tradizione del grande romanzo europeo. Con la sua scrittura precisa e toccante, Rosella Postorino torna a indagare le nostre questioni private, quelle che finiscono per occupare il centro dei pensieri e delle azioni degli esseri umani anche nel mezzo dei rivolgimenti storici più scioccanti. Così, mentre infuria il conflitto che per primo in Europa ha spezzato una lunga pace, ecco che ci interroghiamo sull'inconveniente di essere nati. Come si diventa grandi quando da piccoli si è stati amati malamente? E chi può mai dire di essere stato amato come e quanto avrebbe voluto? Nada, Omar e Danilo scoprono presto nel legame che li unisce, e che li spinge a giurarsi fedeltà eterna oppure a tradirsi, la più grande risorsa per una possibile salvezza. Ricordati di condividere la tua preferenza, scrivendo quale di questi titoli ha suscitato il tuo interesse. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.